Favara celebra il 25 aprile, festa della liberazione, esalta i valori antifascisti della Costituzione italiana e ricorda i suoi figli, quei tanti favaresi, che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo. In Piazza Cavour, ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre e alla stele, in ricordo dei partigiani e antifascisti favaresi, si sono ritrovati tanti cittadini con in testa il sindaco Antonio Palumbo e la sua aggiunta al completo, la presidente del Consiglio Comunale Miriam Miniemi, con diversi consiglieri dei vari gruppi politici. La manifestazione è stata promossa e organizzata dalla locale sezione Ampi, Associazione Nazionale Partigiane d'Italia, unitamente all'Istituto di Ricerche e Studi Calogero Marrone e Liberarci. In prima fila, con la bandiera tricolore, l'Associazione dei Reduci e Combattenti, molti dei quali hanno vissuto direttamente gli orrori della guerra e del nazifascismo, accanto a loro tanti giovani di diverse associazioni culturali, a rimarcare l'attualità dei valori della resistenza, valori universali ed attuali ribaditi da tutti gli intervenuti alla manifestazione. Quindi la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi della stele in ricordo dei partigiani antifascisti favoresi, sulle note di Bella Ciao, la canzone dei partigiani, divenuta simbolo mondiale di chi lotta per la liberazione del proprio paese, intonata da Lillo Zarbo. Favara partecipe e presenta a pieno titolo nella resistenza e nella liberazione. Favara fa anche di più, rende quella che è una ricorrenza che ci accomuna a tutti gli italiani una festa e una ricorrenza da portare avanti tutto l'anno. Oltre alle iniziative e alle battaglie che facciamo tutti i giorni, in questa settimana abbiamo cercato di redare dignità a tutti questi nostri concittadini che hanno dato la loro vita e rischiato alcuni per donarci quello che oggi noi abbiamo, che è la libertà. Oggi è un obbligo morale da parte di tutti festeggiare il 25 aprile, non come una forma stanca per ricordare una festa così stancamente, ma per ribadire che quei principi, quelle lotte, quei valori non sono mai sopiti, che il rischio dittatura, il rischio del fascismo è sempre dietro la porta. E vorrei anche ricordare a tutti che questa è una festa, una ricorrenza di tutta la nazione italiana, di tutte quelle persone che si rivedono nell'antifascismo. Sì, oggi è importante essere tutti presenti, proprio per i valori che la resistenza ci ha lasciato di libertà, di democrazia, che appartengono a tante sfaccettature della politica, a tante parti politiche. Sarebbe stato bello avvicinare tutte le associazioni di giovani, perché è il nostro dovere quello di tramandare questi valori e di inculcarli in tutti i nostri giovani cittadini. Il 25 aprile vuol dire libertà e il 25 aprile vuol dire partecipazione. Esatto, infatti il bello della democrazia è quello di essere tutti presenti, è quello di scambiare le idee in modo tale da trovare la giusta sinergia per rappresentare tutti. È dal 2015 che ormai Arci, Istituto Marrone e Ambi organizzano il 25 aprile in piazza Cavour con la deposizione di una corona di fiori. È un momento importante, è l'anniversario della resistenza, l'anniversario della liberazione e quindi di conseguenza proviamo a fare sia un momento di memoria, ricordando i nostri partigiani favoresi, e fare anche un momento di attualità per andare a provare in qualche modo a stigmatizzare tutta l'onda di razzismo, di omofobia che in questi ultimi tempi in Italia si sta facendo sempre più ingestante. C'è ancora necessità di antifascismo e di essere partigiani? Essere partigiani significa non prendere per la giacchetta la stamba, essere partigiani significa provare ad essere retti, essere partigiani significa legalità e quindi il mio impegno in politica, il mio impegno come ricercatore è volto ad essere partigiano. Il Presidente della Repubblica accogliendo una mia richiesta nel momento in cui ero sindaco della città ha conferito al nostro eroe la medaglia d'oro al valore civile. E' un fatto che fa onore alla nostra città, è la seconda medaglia d'oro che viene data ad un cittadino favarese che si è impegnato durante la resistenza e durante la guerra di liberazione. La città di Favara è grata al Presidente della Repubblica e sono sicuro che le nuove generazioni ne saranno fare tesoro. Oggi ci siamo trovati in piazza proprio per festeggiare questa importantissima ricordazione concorrenza per la nostra Repubblica. Oggi è il 78esimo anniversario della liberazione alla tirannia dei telerani fascista e come ogni anno non ci possiamo assolutamente esimere da scendere in piazza e per rimarcare i valori di libertà, di giustizia sociale e di eguaglianza che sono proprio tipici dell'antifascismo, che invece il fascismo aveva completamente oppresso. Giovani che hanno studiato la resistenza e la lotta di liberazione sui libri a scuola, ma che vogliono essere parte attiva e presente nella giornata del 25 aprile. Corretto, siamo veramente contenti di essere stati inclusi in questa bellissima iniziativa che si dovrebbe ripetere ogni anno ancora con tanta più gente. Noi da giovani e come associazione a partiti che è giovanile ci sentiamo inclusi in questa ricorrenza che riguarda anche il futuro delle generazioni italiane. Ovviamente Favara appartiene alla Repubblica Italiana e l'antifascismo ci contraddistingue e lo vogliamo e lottiamo perché il fascismo sparisca, non dico dalla storia perché è impossibile, ma sparisca dalla vita degli uomini, non solo dell'Italia. Grazie. Chi è che giura? Quando assume una carica pubblica, noi consiglieri, deputati, ministri, giura sulla Costituzione. La mancanza di rispetto di questo giuramento è un modo assurdo di rispettare la Costituzione. E' uno spergiuro e in questo senso noi verifichiamo che ancora oggi molti, a partire anche da ministri, hanno giurato sulla Costituzione e la rinnegano giorno per giorno. E' uno spergiuro e in questo senso di rispettare la Costituzione e la rinnegano giorno per giorno.